Nel pomeriggio di ieri venerdì 5 maggio si è verificata una tragedia a Inverigo in provincia di Como. Un uomo di 62 anni già noto alle autorità ha sparato alla moglie violando il divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Fortunatamente la donna è stata colpita solo di striscio al volto ed è riuscita a scappare mettendosi in salvo. L'uomo si è poi barricato in casa con le figlie e si è tolto la vita con la stessa arma. La vicenda è avvenuta in via Roma nel paese Comasco intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118.